Se lei mi dice se sono per la solidarietà e che cosa penso io per quanto riguarda la xenofobia oppure il razzismo, io vengo da una cultura che guarda caso il gioco delle parole e la parola fascismo. Il fascismo non era razzista, il fascismo è stato accusato in maniera volgare di essere andati in Africa e di aver civilizzato i paesi africani, più o meno la teoria che vorrebbero tanti oggi invece di consentire questa immigrazione e utilizzare questa carne da macello che arriva dai paesi del Nord Africa, andare a dare loro una mano nei loro paesi, ma questo avveniva nel momento in cui gli italiani andarono in Africa, portarono la civiltà in Africa, tant'è che forse voi dimenticate, Lo so che insomma sono cose che non mi meraviglia, non mi meraviglia, se io ti dico che il nostro concetto di civiltà è questo, l'ultimo negus che è stato l'ultimo negus da Abissinia, nell'ultima visita fatta a Roma, venendo a Roma e passando per le strade di Roma, guarda caso salutava la gente col saluto romano, quindi ricordando e ringraziando il popolo italiano per come si era posto nei confronti di quelle popolazioni.